Ragazzi, è un problema. Penso di non poter avere più relazioni con gli uomini. Lui è Filippo. Donne! Uomini! Ascoltatemi bene! Questo è l'altro. Il segreto è tenersi in forma. In forma con i 7.30 di mamma. Non è lesbica! Non è lesbica! Non è lesbica! Voi mi dovete scusare, ma mia figlia soffre di questa malattia. Perché avere oggi un uovo quando si può avere domani è una gallina? Senti, se vuoi dichiarimenti, fammi una diretta, va bene? È fidanzata! Ma zio, quanto sei, carruccio! Ah, carruccio! Di ecco, fate facciamo! Ah, santa pace! Che stai a fare? Eh, mi sto liberando!